E di un caso però non minuto ma sempre più esemplare proprio per il significato che ha qui a San Giovanni Rotondo ma anche in tutto il mondo andiamo a parlare adesso con l'avvocato e caro amico Giuseppe Placentino. Ben arrivato, lo conoscete perché con la sua associazione difesa salute tante volte ha continuato ad aiutare anche voi rispetto a delle problematiche fondamentali ma adesso ritorniamo con le immagini a ormai quasi un paio di settimane fa Giuseppe come mai sempre presto questo Natale in grotta? Quest'anno si è svolto il 20 dicembre quindi di mercoledì perché è una rappresentazione della Natività poi magari spiegherò meglio di che cosa si tratta perché è sui generi se è particolare che poi viene trasmessa da alcune emittenti compresa Padre Pio TV e quindi per questa ragione viene anticipata la nascita di Gesù Bambino di qualche giorno. Andiamo subito appunto al cuore dell'originalità. Allora in realtà non è una rappresentazione come dire della nuova Betlemme con come dicevamo prima Pocanzi, Antonio, riferimento al presepe della diretta diciamo. Mentre vediamo le immagini a tutto schermo del presepe possiamo apprezzare la rievocazione storica di questo momento anche i soldati romani. Io ci tenevo a dire che con il Natale in grotta curato dall'associazione preseduta dall'avvocato Giuseppe Placentino entriamo nel cuore del Gargano, siamo in Valle della Monaca. Sì, nel Gargano Meridionale è un vallone caratteristico sotto San Giovanni Rotondo, al confine tra San Giovanni Rotondo e San Marco Illamis. Volevo dire appunto che la particolarità è che non viene ricostruita la città di Betlemme ma c'è una grotta rupestre su questo costone roccioso dove noi abbiamo allocato la natività. C'è quindi un presepe artistico all'interno di questa grotta che è stato realizzato dall'artista ormai da pochi anni deceduta, Irina Heil, una nota artista di fama internazionale. Quindi ci sono delle sagome e all'interno di questa grotta c'è una teca blindata dove in occasione del Natale deponiamo un Gesù bambino particolare. Molto particolare, quindi ti chiederei di raccontarci. Questo è il punto cruciale direi che ci lega anche in particolare a questo evento. Sì, in effetti sono molto orgoglioso di questo fatto di poter come dire posizionare il Gesù bambino che fu non solo benedetto da San Pio ma anche tenuto nelle mani del nostro santo di Pietrelcina. Quindi negli anni 50 e 60, a meno la storiografia questo ci ha tramandato, questo Gesù bambino di Cera era portato da San Pio durante le veglie natalizie. Successivamente, giusto per parlare un po' di storia di questo Gesù bambino, questo Gesù bambino è stato trattenuto da padre Alessio Parente che era il suo sacrista ma accompagnatore ufficiale. Adesso non c'è più padre Alessio Parente e se l'era preso per sé. Dopo questo sacerdote, una persona che io stimo tantissimo, padre Alessio Parente, avendo letto anche alcune sue... Ha scritto quel famoso mandami il tuo angelo custode, un bellissimo libro. Lo aveva lasciato a padre Gerardo di Flumeri, vice postulatore della causa di beatificazione del nostro San Pio e poi attraverso alcuni passaggi è andato nel possesso della mia famiglia. Io sono contento di questo, ringrazio anche Nunziatina Placentino che all'epoca era la segretaria di padre Gerardo di Flumeri, la quale me ne ha fatto dono. Quindi ovviamente il dono finalizzato a questo avvenimento religioso qui a San Giovanni Rotondo. È bello che tu hai raccolto questo testimone della tradizione del presepe e che non lo hai tenuto per te, lo hai condiviso proprio con questa iniziativa con tutti quelli che vogliono prendere parte alla stessa. E come sempre il tempo, direbbe Tony, è tiranno ma soprattutto quando si parla di questi avvenimenti corre più veloce, chissà perché. Ci ha fatto però piacere ritornare su queste immagini e a questo evento che come abbiamo detto si è svolto qualche giorno prima di Natale nella caratteristica suggestiva Valle della Monaco, uno dei valloni meridionali del Gargano. E quindi grazie a Giuseppe e alla sua associazione per farci. Iniziamo proprio per fare gli auguri a tutti gli appartenenti alla tua associazione, auguri per i vostri riconoscimenti che sono tanti anche a livello civile. Concludere precisando che dopo il posizionamento della reliquia per un po' di giorni, quest'anno fino al 30 dicembre, poi ogni anno si stabilisce, il Gesù Bambino, questa reliquia, resta lì nella grotta per i pellegrini, per gli escursionisti, per i ciclisti che vanno lì e si recano durante le ore di unne, diciamo, in venerazione, durante questo periodo. Quest'anno fino al 30 dicembre. Quindi c'è tempo sino a domani e poi con queste condizioni meteo è davvero ottimale. Grazie ancora Giuseppe. Grazie a voi di nuovo. E noi abbiamo già pronto il nostro Nicola Morcavallo, ma chiedo alla Regia se è necessario prima il passaggio in pubblicità.